argomento nuovissimo per la prossima puntata di medicina amica che affronteremo in compagnia del dottor tancredi militano biologo esperto in neuroscienze in particolare ci occuperemo dei circuiti neuronali del cervello responsabili di ansia paura rabbia tristezza e di altre sofferenze psichiche nella nostra vita quotidiana nel tentativo ora possibile di modificarle in senso positivo